A questo punto chiediamo all'autore di intervenire. Salve a tutti, grazie di essere venuti. Ci tengo innanzitutto a ringraziare, ovviamente, Maria Cristina Arcolessi, Silvio Ponsa e Marco Nimaggio e ci tengo a ringraziare la Fondazione Gramsci non solo perché ha ospitato questo evento, ma perché è alla base di tutta questa ricerca, sia ovviamente nella parte di ricerca, cioè nell'archivio, ma anche per l'aiuto, per l'appoggio. Senza la Fondazione probabilmente il libro non sarebbe, anzi sicuramente il libro non sarebbe qui, non sarebbe mai uscito e quindi un grazie sentito alla Fondazione, a Silvio, a Francesco, a Giasi e a tutti gli altri che sono citati negli ringraziamenti del libro, quindi non ripeterò i nomi, ma gli interessati sanno. Quindi grazie. E grazie a tutti quelli che mi hanno sopportato nel momento della scrittura, che è stato un momento pesante, come molti sapete, anche di stress emotivo e non solo. Direi che sul piatto ci sono parecchie questioni, parecchie questioni da affrontare anche. Io volevo iniziare innanzitutto dicendo che questo libro è sicuramente una storia delle interrelazioni tra i due partiti comunisti e i movimenti africani, ma è anche qualcosa di più. Io ci ho visto, almeno ho provato a inserirci qualcosa di più e questo qualcosa di più era sia il ruolo del comunismo occidentale, però da definire anche questo comunismo occidentale, soprattutto negli anni Sessanta, perché anche il termine di comunismo occidentale è un termine spinoso in quel momento rispetto al rapporto con il campo socialista e con il movimento comunista internazionale. Quindi anche il mio intento era anche di sottolineare il ruolo, diciamo, dei due partiti nel rapporto con l'Africa rispetto al movimento comunista internazionale e al campo socialista, che è un rapporto non solo di mediazione, in cui la mediazione comunque è molto forte perché soprattutto, appunto, diceva Marco, i comunisti francesi si sentono un po', si arrogano un po' a questo ruolo di formatori politici, dei dirigenti africani francofoni, ovviamente sempre nella sfera francofona, e quindi già così agiscono da mediatori naturali, ma la cosa riguarda anche gli italiani e perché riguarda gli italiani? Riguarda gli italiani, lì c'è la domanda perché hai fatto un libro sui rapporti con l'Africa occidentale, che è una domanda lecita, in realtà ci sono, appunto, in mezzo c'è il rapporto con i francesi e con il campo socialista, e poi c'è l'elefante nella stanza, cioè la guerra d'Algeria, che sono tutti i motivi che portano il Partito Comunista Italiano a rivolgersi all'Africa occidentale, ai movimenti dell'Africa occidentale, perché è una regione che in quel momento, una regione dell'Africa, anche in quel momento diventa più importante, almeno per il Partito Comunista, del corno d'Africa, che invece era, appunto, è stato ricordato, era la regione che era stata sottomessa al colonialismo italiano, colonialismo che, come ha ricordato Maria Cristina Ercolessi, viene quasi dimenticato, o viene associato al fascismo, diciamo, dai comunisti italiani, che è una cosa che sicuramente contribuisce un po', ha contribuito all'oblio un po' della storia del colonialismo italiano nel corno d'Africa, anche questo, e quindi non solo dalla parte, diciamo, dei conservatori, che invece quel colonialismo lo rivendicavano, ma anche da chi invece contro quel colonialismo ha combattuto, perché lo vede come qualcosa di superato, qualcosa che non appartiene più all'Italia, all'Italia democratica, diciamo. D'altra parte, io nel libro ci ho visto, ho approvato, forse non sono riuscito molto nel mio attento, ma anche a dare un voce agli africani, cioè ai movimenti africani, non utilizzando le fonti africane, questa è la particolarità, perché le fonti sono sempre quelle dei comunisti, dei sindacali e partiti, però all'interno di queste fonti ci sono le voci che provengono invece dai partiti e dai sindacati africani e dai protagonisti di questa storia che sono in Africa, perché questo archivio del PC e anche quello del PCF contengono una corrispondenza importante con i protagonisti africani di questa storia e che quindi rivelano anche un punto di vista, un punto di vista che ci rivela anche alcune problematiche spinose che sono state portate, diciamo, che sono emersi in questa discussione. Per esempio, la questione della terminologia. La questione della terminologia è che, sono totalmente d'accordo, tutti i termini che vengono utilizzati da entrambi i partiti, quindi su questo che è una terminologia in realtà che è legata anche a agli studi e le ricerche che vengono fatte invece per esempio in Unione Sovietica, in Cieco-Slovacchia, insomma in altri, nei paesi del campo socialista, riguardo all'Africa e in generale all'anticolonialismo, per esempio riguardo alla società, cioè, per esempio, sono legate al problema della retratezza, cioè la retratezza è legata a una visione del colonialismo come elemento di cristallizzazione, diciamo, di un progresso che invece viene visto come, una visione marxista come naturale e che nel colonialismo ha fermato tutti i paesi coloniali, in particolare l'Africa, rispetto all'avanzamento, alla modernizzazione europea. E in questo ci sono, da una parte, i germi del rapporto Nord-Sud che è un'altra problematica molto spinosa per quanto riguarda i rapporti con il campo socialista e soprattutto con l'Unione Sovietica, perché parlare di Nord-Sud vuol dire mettere nel Nord anche l'Unione Sovietica, cosa che poteva essere problematico se è relativo alla, per esempio, alle terminologie usate dai cinesi rispetto alla campagna e alla città globale, no? E quindi parlare di questo poteva essere abbastanza problematico, però, per esempio, soprattutto gli italiani parlano di combattere il feudalesimo, che cos'è il feudalesimo in Africa. In realtà viene utilizzato, appunto, come si è detto, in maniera strumentale, ma non solo dagli italiani, ma anche dai stessi dirigenti africani. Stessi dirigenti africani parlano di feudalesimo. La realtà è che c'è da una parte appunto questo aspetto di terminologia marxista e dall'altra c'è invece una volontà di appoggiarsi anche sulla classe contadina che, invece, in una visione, se si pensava al contadino africano come piccolo proprietario terriero, poteva sembrare, invece, un elemento di conservazione, un elemento reazionario che, nella visione dei partiti comunisti, invece, non doveva emergere, perché, invece, i contadini africani erano la maggioranza della popolazione e dovevano, invece, fornire la base per la rivoluzione, ovviamente sempre in questa prospettiva, per la rivoluzione socialista in Africa. E quindi, anche per questo viene utilizzato il termine feudale, perché il contadino diciamo che è sottomesso al feudalesimo deve essere liberato e deve avere una coscienza della sua condizione di classe. Questo è il motivo, diciamo, di questa terminologia particolarmente eurocentrica, perché, appunto, è legata alla storia europea. Sulla terminologia c'è anche un'altra questione che non è emersa e che forse anche nel libro non dimentico, anzi, però ci sono nelle ricerche che vanno avanti e poi le cose progrediscono anche dopo ed è il termine decolonizzazione. Il termine decolonizzazione è un termine particolarmente problematico per quanto riguarda il comunismo internazionale, perché negli anni 30, per esempio, il termine decolonizzazione è un termine negativo per il comunismo internazionale. Se si legge la corrispondenza internazionale e diciamo relativa al sesto congresso del Comitem, nel 28 decolonizzazione è legato all'approccio socialdemocratico al colonialismo, ovvero la come dire l'accompagnamento paternalista alle indipendenze e che quindi non prevede una rottura rivoluzionaria ma anzi prevede prevede una proprio un accompagnamento una guida europea no? quindi decolonizzazione è negativo in quel caso però è un termine che diventa pian piano positivo in particolare quando dopo il 55 dopo Bandung dopo Suez dopo l'inizio della guerra di Algeria si capisce che nel movimento comunista si capisce che bisogna adottare un'altra prospettiva e la prospettiva non è più quella del tutto subito ma è anche quella di una di una rivoluzione progressiva cosa che al partito ministro italiano va benissimo soprattutto dal momento in cui in cui togliatti nel 56 diciamo dalla via italiana al socialismo e quindi è perfetto anche dal punto di vista italiano ci sono poi i problemi ovviamente relativi al rapporto non solo tra i due partiti che litigano continuamente sulle questioni teoriche e sulla sull'approccio anche perché i francesi comunque temono l'influenza degli italiani non solo l'influenza degli italiani con gli africani ma l'influenza degli italiani con gli africani si rispecchia sull'influenza degli italiani nel campo socialista nel movimento comunista internazionale sia a livello diciamo di rapporto con i partiti ma anche a livello diciamo di rapporto con le istituzioni statali sovietiche poi c'è sempre questa differenza ovviamente che spesso viene dimenticata il partito comunista italiano e il partito comunista francese sono due partiti all'opposizione quindi non sono non rappresentano delle istituzioni d'altro canto il partito comunista italiano si si iscrive in una generale tendenza dell'Italia repubblicana a rivolgersi sempre di più allo spazio mediterraneo allo spazio africano e quindi anche di questo beneficia nonostante la sua permanenza all'opposizione mentre invece il partito comunista francese appunto nel suo spazio gallocentrico in un contesto in cui questo rapporto c'è e c'era già da decenni di colonialismo prova a sovvertire questo rapporto dal centro cioè dalla metropoli che è poi una visione un po' diciamo che deriva anche dalla dalla visione stalinista e in questo c'è il rapporto anche con dei francesi con le varie diaspore africane che in Italia non c'è per esempio appunto per quanto riguarda gli italiani il partito comunista italiano e la Somalia c'è un bello studio che è uscito da poco di Simona Bere sugli studenti internazionali e c'è poco sul rapporto con il partito comunista italiano perché non perché la ricerca sia fatta la ricerca è fatta molto bene ma perché effettivamente c'è poco il rapporto è a livello diciamo militante ma non a livello dirigenziale non c'è quasi nessun rapporto tra i centri dirigenti del partito e per esempio le associazioni studentesche somali in Italia mentre invece per quanto riguarda il partito comunista francese con tutti con tutte le proiezioni gallocentriche ma anche proiezioni diciamo di un modello sovietico sovietico di stampo diciamo ispirato a quello sovietico in tutto questo però c'è un rapporto molto più stretto con la diaspora africana in Francia un po' perché sono di più va bene ma un po' perché rappresentano un elemento importante un elemento politico che non può essere che non può essere tralasciato e questo fin dagli anni trenta ed è ed è anche però marca anche in realtà un cambiamento che c'è netto tra due diciamo come dire due correnti due ondate diciamo se posso permettermi il termine di anticolonialismo in Africa francofona il primo che è quello appunto degli anni venti e trenta che ha una rottura fortissima col partito comunista francese dopo il trentacinque dopo l'invasione dell'Etiopia dopo i fronti popolari proprio per via di questo rapporto di questo anzi mancato rapporto in Francia tra antifascismo e anticolonialismo perché dal momento in cui l'obiettivo primario è la lotta dal fascismo i imperi coloniali sono diciamo l'alleato naturale dell'Unione Sovietica contro il contro il fascismo cosa che invece come ha ricordato Maria Cristina Arcolessi non succede in Italia dove invece è il fascismo stesso essere colonizzatore quando c'è questa rottura i dirigenti africani della diaspora legati al partito comunista francese si avvicinano a i dirigenti del panafricanismo per esempio anglosassone degli Stati Uniti d'America che invece con cui invece non avevano avuto o quasi rapporti non tanti rapporti soprattutto anche per problemi anche di comunicazione fino a quel momento lì e da quel momento invece nasce una nuova generazione di dirigenti di dirigenti dell'Africa francofana questi dirigenti sono più intimamente legati a una formazione effettivamente a una formazione politica e sindacale legata al partito comunista francese ed è anche per questo che usano una terminologia che poi è quella che abbiamo analizzato precedentemente Secuturè era un sindacalista della CET per esempio e molti altri leader Modiboguità e tanti anche sindacalisti per esempio del Congo Brazzaville facevano parte di un di un grande partito che era stato che si era che era nato nell'Africa francese dopo nel 46 che era l'Assemblement Democratic African che era che il partito comunista si arrogava pensava lo vedeva come una sua costola in Africa ovviamente una cosa che viene una interpretazione che viene osteggiata sia dagli africani ma anche da molti storici ma che però è importante sapere che il partito comunista francese avesse questa sua questa sua prospettiva su questo partito perché i dirigenti di questo partito sono tutti quei dirigenti che poi costituiscono i movimenti e i partiti anticoloniali che poi molti dei quali governano i paesi che diciamo nascono dall'impero francese e mi sono sicuramente dimenticato qualcosa dunque il 68 globale comunque ho diventato tante altre cose comunque sul 68 globale questa è una domanda da un milione di dollari perché effettivamente da un certo punto se noi prendiamo il punto di vista dei partiti comunisti il 68 globale per quanto riguarda l'Africa marca un momento di cesura fondamentale che è la cesura tra il fallimento della prima ondata rivoluzionaria in Africa cioè quella legata appunto all'Africa occidentale che è in quel momento salvo l'Algeria la più importante diciamo in Africa almeno dal punto di vista dei partiti comunisti e per e si inserisce invece un nuovo spazio rivoluzionario che è quello delle colonie portoghesi che già dal 62 comincia ad avere il proprio impatto sui partiti comunisti e che probabilmente ha questo impatto anche perché i comunisti sono italiani e francesi ma anche i sovietici i jugoslavi i cecoslovacchi i polacchi sono presenti nelle capitali africane in particolare a Bamako e a Conakri e quindi fanno la conoscenza dei dirigenti in in esilio che hanno i loro centri dirigenti all'estero per esempio del Paese della Guinea-Bissau o a Brazzaville del MPLA o in Algeria anche e quindi questo è l'elemento importante anche quello cioè non è solo non è solo un fallimento perché da diciamo il là a una nuova prospettiva rivoluzionaria per l'Africa se diciamo si leggono gli scritti di Romano Ledda tra il 67 e i primi anni 70 ci si accorge del fatto che non viene vista come non sono viste come due momenti separati ma come un'unica traiettoria che porta il fallimento del del socialismo nell'Africa occidentale porta invece a una più più importante scelta rivoluzionaria nell'Africa portoghese tuttavia c'è da considerare l'aspetto legato al ruolo diciamo dei comunisti in Europa come risoluzione alle problematiche nord-sud il problema dell'allentamento dei rapporti con l'Unione Sovietica nel 68 dopo Praga allentamento graduale e che però è importante è importante anche nei rapporti con con l'Africa soprattutto del Partito Comunista Italiano perché l'obiettivo non è più quello di rafforzare il campo socialista allargando le sue prospettive all'Africa ma l'obiettivo è quello di democratizzare l'Europa per farlo uno strumento per farlo uno strumento di risoluzione dei conflitti delle disuguaglianze strutturali però c'è anche un altro elemento che è un elemento che non viene percepito almeno non immediatamente da forse più dai francesi in realtà dai francesi viene percepito dagli italiani negli anni 80 probabilmente che è l'elemento anche del fallimento di una prospettiva autonoma di ricostruzione dei rapporti e anche di destrutturazione dei rapporti che c'erano tra cioè il nuovo ordine economico internazionale che c'erano tra nord e sud perché c'è una si applicano delle categorie che anche nel nuovo ordine economico internazionale si cerca un dialogo da sud verso nord più che da nord verso sud e questo io lo butto così sul piatto però non diciamo che essendo una cosa molto spinosa non saprei dire se va studiata va studiata questa questa prospettiva anche nel quadro di appunto dei rapporti tra comunisti e Europa tra comunisti e sinistri europei nel contesto di ricostruzione di strutturazione dei rapporti tra Europa e Africa e mi era venuta in mente un'ultima cosa che era su su i rapporti con appunto le dittature cioè l'analisi del l'analisi del rispetto all'autoritarismo africano no innanzitutto con Krumah ce l'hanno ne hanno hanno parecchie cose da dire contro Krumah perché Krumah rappresenta rappresenta l'elemento anglosassone cioè la vicinanza con gli Stati Uniti Krumah ha studiato negli Stati Uniti e e quindi vedono proprio lui un possibile elemento di di penetrazione no del del liberismo americano nei suoi rapporti con la CISL non la CISL italiana ovviamente la CISL internazionale cioè la Confederazione di Sindacati Liberi nei suoi rapporti con i dirigenti persino con i dirigenti afroamericani americani afroamericani cioè loro la presenza di questi dirigenti afroamericani nei congressi di Accra non viene vista bene perché li sentono come qualcosa di estraneo sia l'elemento africano ma anche all'elemento in sé diciamo socialista li vedono come qualcosa di liberista cosa che non succede invece con tutti quelli che si erano formati nel mondo francofono succede a un certo punto cioè alla fine degli anni settanta però anche lì in molti casi succede perché per molti di questi di questi dirigenti c'è un avvicinamento un avvicinamento alla Francia e anche agli Stati Uniti per esempio Jose Couture muore negli Stati Uniti non è un caso e nel 78 Americo Terenzi per la prima volta manderà una nota al partito in cui dice qui ci sono dei campi di concentramento in cui la gente muore di fame in cui ci sono degli scheletri che camminano una cosa che non era stata mai per lo meno dagli italiani non era mai stata notata mentre dai francesi sì perché neanche nel momento in cui Jose Couture diciamo ripulisce i quadri del partito dopo il 1970 dopo il novembre di 1970 in cui c'è il tentativo di colpo di Stato il tentativo di invasione portoghese della Guinea Conakry e cui lui approfitta per far fuori un po' di nemici politici e cui arresta per esempio diversi comunisti francesi e quindi i comunisti francesi devono fare subito i conti con questo aspetto autoritario di seguitore autoritario e il culto della persona di seguitore cosa che gli italiani non scoprono fino a al momento in cui anche diciamo i diritti umani individuali assumono una un'importanza nella battaglia contro l'imperialismo che viene sempre comunque anche negli anni 70 si parla ancora di imperialismo e quando l'imperialismo attacca diciamo il movimento comunista malgrado le differenze che tra tra un'unione sovietica e comunismo in quel momento comunismo occidentale viene definito cioè è diventato quasi un'altra cosa e in quel momento però bisogna bisogna diciamo dar voce ai diritti umani individuali e quindi in quel momento anche gli autocrati africani vengono visti per quello che sono in più il loro avvicinamento diciamo all'occidente non gioca certo al loro favore dimenticato qualcosa forse qualcosa ho dimenticato però credo che si sia fatto tardi niente scusate la confusione però grazie 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 a tutti e buona serata arrivederci grazie